Abbiamo approvato una mozione lo scorso ottobre che mira a aumentare, a incentivare la vaccinazione contro il papillomavirus che in Italia produce circa 1.400 casi all'anno e che addirittura provoca 494 decessi, almeno nello scorso anno. Quindi abbiamo deciso di approvare questa mozione quasi ad unanimità, in pratica mira ad incentivare la vaccinazione per le donne fino a 30 anni e in concomitanza con il pap test e quindi l'HPV test per eliminare o comunque contenere questo virus. Abbiamo allargato anche la possibilità agli uomini tra 18 e 30 anni e la regione è molto sensibile su questo tema. Abbiamo deciso di fare questo convegno proprio per promuovere questa vaccinazione e abbiamo coinvolto un po' tutte le istituzioni, dal Presidente della Regione, dal Senatore Liris e anche altri membri del Consiglio regionale ma anche le associazioni che si occupano di questa vaccinazione. Quindi noi cerchiamo in tutti i modi di far capire alla popolazione che questo virus è un problema serio che provoca cancri come quello della cervice uterina che dobbiamo in qualche modo cercare di combattere. Questo è l'unico modo attualmente. Quindi promuoviamo questa vaccinazione.